Il prossimo incontro viene realizzato con il contributo di Fondazione Carifano e vede un autore che ha iniziato il suo percorso di giornalista quando ancora era al liceo e nel mondo delle radio libere, cronista parlamentare, per oltre vent'anni ha guidato la redazione interna della Repubblica e oggi è il direttore dell'Ansa, agenzia nazionale di stampa. Diamo il benvenuto al direttore Luigi Contu. Direttore Contu, buonasera, benvenuto, grazie di essere con noi. Il direttore questa sera ci presenterà I libri si sentono soli, edizioni La nave di Teseo, forse questo titolo l'avete già sentito perché c'è una mostra specifica, poi magari ne parleranno. Con il direttore converseranno Mario Calabresi, giornalista e autore della newsletter settimanale Altre Storie, diverse pubblicazioni al suo attivo, tra cui quello che non ti dicono è stato con noi proprio lo scorso anno. Buonasera Mario, è Alessandra Longo, giornalista tra i primi più assidui a occuparsi di temi digitali. La conosciamo perché da dieci anni calca questi palchi, è membro del comitato scientifico di Passaggi Festival e io lascio a loro il palco e questo incontro. Grazie, a più tardi. Allora, buonasera, buonasera a tutti e benvenuto a Luigi Contu, benvenuto a Mario Calabresi, che è già peraltro venuto a Fano, quindi non è una prima volta. Allora, questa sera parleremo di questo libro che ha scritto Luigi Contu, che ha un titolo bellissimo, poi lui spiegherà anche il senso di questo titolo. I libri si sentono soli, in realtà dopo questo libro secondo me si sentono molto meno soli. Comunque, diciamo, c'è un motivo se questo titolo è stato scelto. E la storia di una biblioteca di famiglia che è stata ereditata dal nonno, Raffaele Contu, Raffaele con una F, sardo di Tortoli, intellettuale, amico e interlocutore di personaggi come Paul Valery, Ungaretti e altri, un uomo appassionato di scienza, astronomia, ma insomma questo ve lo racconterà il nipote. Quello che posso dire in apertura, che a me piace molto Luigi, questo lavoro che hai fatto, che è un'incursione anche abbastanza coraggiosa nella tua storia di famiglia e che è anche un omaggio alla memoria. La memoria per me, forse perché, l'ho detto ieri, ma spero che mi perdoniate la ripetizione, essendo nata su un confine, la storia e la memoria per me sono un valore aggiunto straordinario. E questo percorso che ha fatto Luigi Contu è, alla fine, ha prodotto una memoria, ma una memoria di famiglia, ma non solo, è un percorso anche di storia collettiva del paese. Quindi c'è un doppio binario in cui ci siamo inseriti tutti, anche noi lettori. Ti darei la parola, spiega un po' come è nata questa cosa e come sei adesso. Cioè, alla fine di questo percorso non sei più lo stesso, io credo, vero? Sì, è vero. Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Intanto fammi ringraziare Passaggi Festival, veramente grazie di essere in questa piazza. Sono anche un po' emozionato, perché sinceramente io non pensavo di scrivere questo libro e mai avrei pensato di presentarlo davanti a così tante persone, quindi perdonate l'emozione, ma è vera. Ma questo libro è nato così, è nato per caso. Io ho letto tanto nella vita, ma ho sempre pensato che non avrei scritto un libro perché li ritenevo così belli, così complicati, che ho sempre pensato non ce la farai mai a scrivere un libro, non avrai mai una buona idea. Poi leggevo i libri degli altri e li invidiavo e dicevo guarda che bella idea, mannaggia perché non mi è venuta. Poi mi sono trovato in questa storia un po' forzata, un po' improvvisa, perché improvvisamente ho ridato questa biblioteca, improvvisamente abbiamo avuto la necessità di spostarla quando è morto mio padre e io l'avevo sempre vista nella mia vita, ero sempre entrato in quella casa di mio padre vedendo questi 20.000 volumi che erano nei corridoi, nelle stanze, nel bagno, nel salone, ovunque. Però un po' come succede quando, non so, io sono di Roma, un romano abituato a passare tutti i giorni davanti al Colosseo, alla fine non ci fa più caso. E quando mi sono trovato di fronte alla necessità di prenderli, di metterli a posto, di sbrigarmi, di fare gli scatoloni, di portarli a casa mia, ci sono entrato dentro, per la prima volta ci sono entrato dentro con tutto me stesso. E questa è stata un'esperienza, è stata un'esperienza pazzesca. E una delle prime persone a cui l'ho raccontata è Mario Calabresi, con cui ho lavorato per tanti anni, e un giorno mi ricordo che lo chiamai al telefono, gli dissi Mario guarda sto qui, è un disastro, devo spostare tutti questi libri, ho un mese di tempo, non ce la farò mai. Io ho cominciato a raccontargli un po' delle cose che avevo trovato e che poi ho scritto nel libro. Lui alla fine di questo mio sfogo telefonico, perché ero veramente in affanno, hanno detto, scusa ma questa è una storia fantastica, scrivimi un pezzo per la mia newsletter. E ho detto, vabbè, ci provo, non ne avevo mai pensato. Ho cominciato a scrivere questo piccolo pezzo che poi gli ho mandato, a lui è piaciuto, e questo pezzo che è uscito sulla newsletter ha cominciato a girare, un po' di persone lo hanno letto, deve essere piaciuto anche a loro, e l'ho letto anche Alessandra, l'ha letto Giovanni Belfiori del Festival, e mi hanno telefonato per dire, ma perché non facciamo una mostra con questi bellissimi libri e questi documenti? E io dico, beh, si può fare, perché no? Quando sono venuti a trovarmi, io gli ho cominciato a raccontare quello che ho trovato in questi scatoloni, e vedevo i loro occhi che si sgranavano, e ho pensato, ma loro interessa davvero questa storia? Perché io veramente non lo credevo. Da lì ho pensato, beh, forse ci provo. E così, scatolone per scatolone, ho cominciato ad aprire tutti i libri, che mi erano tanto portato a casa. Con l'aiuto dei tuoi figli, tra l'altro. Con l'aiuto dei figli che sono qui e che saluto. Eh, fatti, salutiamoli questi figli con tu. E niente, ho cominciato a vedere queste meravigliose cose, sono entrato in tutte le riviste, a cominciare dal 1900 e oltre, e piano piano ho conosciuto, ho rivisto la poesia, la letteratura, ho visto mio nonno, che non avevo mai conosciuto nella vita, di cui mi aveva sempre parlato mio padre. Però purtroppo, come spesso accade, magari capita anche a miei figli, anzi sicuramente, quando tuo padre ti racconta delle cose sempre le stesse, uno diceva, ah, basta, papà, me l'hai già detto sei volte, che nonno era intellettuale, conosceva Angaretti. E in realtà poi, quando ci vai dentro, scopri tante cose che ti coinvolgono, che ti prendono, e quindi cambi, per rispondere alla tua domanda, cambi molto, perché la mente ti si apre e riscopri degli affetti, dei sentimenti, non soltanto per i libri, ma anche per la tua famiglia. Mario, io mi sono autocandidata a, diciamo, a collegarvi, a collegarci in questa chiacchierata. Ecco, che cosa ti ha colpito? Tu sei comunque uno scopritore di storie, perché, diciamolo, newsletter, la tua newsletter è una fantastica produzione di storie, però cosa ci hai visto in questa storia di libri? Buonasera, buonasera a tutti. Innanzitutto ci ho sentito, grazie, l'entusiasmo di Luigi. Luigi, cioè, allora, Luigi è una persona, è il direttore dell'agenzia ANSA e, per costituzione, ha una certa asciuttezza e sobrietà, la notizia, non è uno che ricama sulle cose. Per la prima volta mi fa una telefonata e aveva un entusiasmo, come se la Roma, che è la sua squadra, avesse vinto la Coppa dei Campioni. E, però, mi parlava del fatto della biblioteca di suo padre. E io, al primo momento, ero un po', tu avevi un trasporto nel racconto, perché poi lui vi ha omesso di raccontare un dettaglio, che a me ha colpito molto e ha commosso molto. Suo padre è mancato nove anni prima di questo spostamento della biblioteca, nel senso che tutti i libri stavano a casa della moglie di suo padre e quando lei poi ha deciso di cambiare casa gli ha detto dovete togliere tutti i libri. Ma nove anni prima il padre doveva avere un'operazione in ospedale, sembrava un'operazione apparentemente semplice. Cioè, nessuno pensava a qualcosa di grave o di pericoloso. Luigi passa a trovare il padre il giorno prima dell'operazione e normalmente come se niente fosse e il padre invece utilizza quel tempo per fargli una serie di discorsi su temi fondamentali della vita. Tipo il rapporto che avevano avuto da bambini, cioè quando lui era bambino e i genitori si erano separati, il padre era nato via di casa. E quindi è un momento in cui c'è una sorta di momento della verità tra un padre e un figlio. Lui sta per uscire, il padre sostanzialmente lo richiama, lo ferma e gli dà un compito, gli dice aspetta, io ti devo spiegare bene com'è divisa la libreria. Prende un foglio e fa un lungo appunto, ci mette un quarto d'ora a scriverlo, in cui gli spiega la famiglia di Luigi con tu, capite che non sono trentini, sono sardi e il padre gli spiega che hanno tutta una parte di libreria con libri rari in dialetto, tra cui per esempio Shakespeare tradotto in sardo per cui il Macbeth è il Macbeth tu. Anche la Divina Commedia. La Divina Commedia, i dizionari, un rarissimo dizionario della lingua tra sardo e italiano. E allora gli spiega tutto questo, poi gli spiega che ci sono una serie di libri preziosi, tra cui il libro preferito del nonno, che è la prima edizione dell'Ulisse di Joyce pubblicata in Francia da Shakespeare & Co. E allora gli dice, gli fa questa sorta di mappa, lui la mette in tasca, va a lavorare e dice, boh, vabbè, il padre invece purtroppo per una complicazione dell'operazione verrà a mancare due giorni dopo. E quindi quel foglio e quel discorso sui libri sono l'ultima cosa che tuo padre ti lascia. cioè, è proprio come dire, il lascito testamentario. Tu ti devi occupare di questa biblioteca, di questa libreria, di questa quantità infinita di libri in cui tu non avevi mai messo il naso. Non così, non così. Li vedevo, ogni tanto lui me ne parlava, non così, e lui era proprio preoccupato di questa cosa. Tra l'altro lui è sempre stato con noi, e poi qui c'è mio fratello che ve lo potrebbe raccontare. Sì, che ha detto delle cose di te prima che non so se si possono ripetere. Sì, noi non le diciamo. Perché il fratello prima di salire mi ha detto dia questa platea che lo scrittore, però non so se sia vero, ha avuto cinque in italiano al liceo. Così ha detto il fratello che si chiama Raffaele con una F sola come il nonno. No, no, però lui ci diceva sempre questa frase e attaccava un po' questo discorso che alla fine, la prima volta, io l'ho sentito alla festa della comunione, me la ricordo, infatti lo racconto nel libro, e lui cominciava a dire Luigi, mi raccomando, ricordati che i libri sono fondamentali, tu con i libri puoi capire il mondo, puoi viaggiare. Posso leggerlo questo pezzetto? Prego. No, perché è bellissimo, me l'ho segnato. Diceva, leggere... Allora, Luigi, ricordati che senza la lettura la vita di una persona è destinata a restare povera. Leggere ci arricchisce, ci fa fare viaggi incredibili, ci fa conoscere nuovi mondi, i libri vivono una vita propria che si incrocia con la nostra. Se li lasci abbandonati sugli scaffali per troppo tempo si intristiscono. Non basta comprarli e leggerli, vanno vissuti, curati, consumati, soprattutto quelli che ti sono piaciuti di più o che ti hanno colpito, emozionato, magari turbato. Sono come degli amici, magari ti allontani per qualche tempo, ma poi sei felice di ritrovarli. Devi continuare a viverli anche dopo che hai finito di leggerli, come faceva tuo nonno con l'Ulisse. E concludeva con una frase che mi è sempre rimasta dentro, scrive Luigi, e che da giovane mi suonava strafagante. I libri si sentono soli, Luigi, proprio come noi. Ecco, spiegato il titolo, bellissimo, che tra l'altro uno dei pregi di questo libro è che ridà valore all'oggetto, che non è un oggetto, perché noi siamo abituati, qui tu Mario, ovviamente rappresenti il versante tecnologico, in maniera... Noi siamo abituati ormai a non avere più una fisicità di rapporto col libro. e invece qui non in alternativa, ovviamente, però si capisce che il libro ha un'altra funzione. Il libro va toccato, è vissuto, e il libro parla, no? E racconta. E a questo proposito, abbiamo parlato dell'Ulisse di Joyce, e la storia di come tu hai ritrovato questo libro, anche con l'aiuto di Ludovica, credo di ricordare, e dove l'hai trovato? Perché qui si inserisce la protagonista, diciamo, di questa storia, che è una cassa panca. Sì, dunque, a casa di mio padre, alla fine c'era un delirio, un disordine totale, quando siamo andati, abbiamo cominciato a cercare le cose, a permetterle a posto, c'era di tutto. Tra l'altro, la casa era stata spogliata di tutti gli altri oggetti, dei mobili, c'erano solo libri alle pareti, ma erano talmente tanti, e gli oggetti che erano intorno ai libri. Tutti quelli di mio nonno, di mio bisnonno, di mio padre. E quindi io mi ricordavo questo appunto che mio padre mi scrisse con un pennarello rosso prima di morire, io l'avevo perso al momento, poi l'ho ritrovato, però non vi racconto troppo, se no non l'ho comprata, ma a parte scherzi. Io non l'avevo più, e questo era un elemento di angoscia, perché dentro di me dicevo hai perso l'ultima cosa che ti ha detto, ti ha scritto tuo padre, e che ti sarebbe stata utile oggi. Quindi per me è stata un'ansia smisurata, e mi ricordavo, l'unica cosa che mi ricordavo di questo appunto e di quella chiacchierata, era che lui mi aveva parlato dell'Ulisse e del rapporto tra mio nonno e l'Ulisse che mio nonno aveva comprato in un viaggio a Parigi nel 28, nel 33, adesso mi posso sbagliare, sono troppo emozionato per ricordare le date esatte. E quindi con mia figlia ci siamo diti, ma cerchiamo, almeno cominciamo a cercare l'Ulisse, ma niente, non c'era, quest'Ulisse non si trovava, scale, scalette, starnuti, era stato, e a un certo punto invece Ludovica mi ha detto eccolo, eccolo, ho sentito, io ero rimasto nello studio di mio padre e mia figlia ha cominciato a dire l'ho trovato, l'ho trovato e stava dentro una cassa panca che era l'ultimo oggetto rimasto che non era stato portato via dalla casa perché era mia, era nostra e dentro questa cassa panca che non avevamo mai aperto c'erano tutte le riviste che mio nonno aveva collezionato, quindi abbiamo trovato tutte le riviste dal 1902 al 1952 sostanzialmente che lui aveva tenuto e c'era quest'Ulisse quindi mia figlia è venuto con questo libro che tra l'altro io non avevo ancora mai finito di leggere nonostante tanti tentativi e l'abbiamo visto e l'abbiamo trovato così e questa cassa panca era stata usata da mia nonna in Sardegna per il corredo nonziale una grandissima cassa panca di castagno nero tutta intarsiata che in Sardegna veniva utilizzata proprio per questo e che poi ha seguito la famiglia dalla Sardegna a Roma in tutti gli spostamenti trasportando questi libri e trasportando l'Ulisse quindi poi è diventata a quel punto noi pensavamo di buttarla invece quando ho capito che dentro c'era tutto questo l'ho presa e l'ho portata attualmente qui alla mostra ma è al centro del mio salotto e dentro ci continuo a tenere le riviste senti tu racconti che non dormivi neanche la notte cioè questa ricerca questa incursione nell'oceano di carta come viene definito ti crea una sorta di ossessione positiva di ossessione di è un percorso che ti prende completamente no? non è un semplicemente un mettere a posto catalogare ma succede qualcosa di molto più forte sì questo è successo quasi subito è successo quando ho cominciato a leggere le cose che mio nonno leggeva e scriveva al di là delle riviste della bellezza quindi con i ragazzi ci guardavamo la voce tutte le solari a tutti i circoli tutte le riviste letterarie che erano pazzesche se noi le confrontiamo a quello che vediamo oggi c'erano le poesie di Montale di Sabba che uscivano da tutte le parti una cosa straordinaria ma al di là di questa a un certo punto trovo la parte in uno scatolone tutte le cose che mio nonno aveva scritto mio nonno aveva dopo la guerra aveva fatto il politecnico si era laureato in fisica e si era affascinato della figura di Einstein che da poco aveva portato nel mondo la teoria della relatività e lui è stato il primo che ha tradotto dal tedesco la teoria della realità per un manuale divulgativo in italiano e quindi già questo vederlo mi ha molto affascinato mi ha fatto entrare un po' nella testa di mio nonno e poi tutti i libri di fisica dal tedesco e dall'inglese che lui tradusse e ho cominciato ad entrare nella testa di questa persona che non avevo mai conosciuto mentre ho fatto questo mi sono imbattuto nei libri di Paul Valéry che mio nonno aveva conosciuto che si era conosciuto con Valéry per merito di Ungaretti loro erano amici adesso vado tutti i nomi diciamo proprio esatto mia nonno aveva fondato una rivista di poesia con Ungaretti Ungaretti aveva capito che mio nonno aveva la fissazione dell'incontro tra la poesia e la matematica era fissato con questo concetto lo cercava continuamente lo cercava nei libri di fisica lo cercava nel tradurre Einstein questo io poi l'ho capito tutto dopo e quindi questa storia mi ha davvero affascinato e Ungaretti gli disse in una scena perché ci sono delle lettere in cui il mio nonno lo scrive guarda devi conoscere assolutamente Valéry devi leggere questo Eupalino che è un dialogo socratico che Ungaretti che Valéry scrive e che è un dialogo tra Platone e Socrate su un architetto dell'antica Grecia un libro che io non avrei mai letto nella vita naturalmente forse non avrei neanche mai saputo che esistesse però lei ha tradotto mio nonno e ho detto vediamo questo Eupalino e in effetti questo Eupalino era un bellissimo libro e lì mi è scattata questa roba una notte intera ho cominciato a leggere non mi sono riuscito a fermare sono andato avanti andato avanti perché era veramente un libro pazzesco era un dialogo assurdo proprio su questo concetto della perfezione della forma della matematica e dei calcoli inserito nella poesia e nella poetica di quel tempo e lì mi è scattata questa cosa e lì ho capito che dovevo andare avanti e quindi poi la sera tornavo a casa i miei figli mi guardavano come se fossi mezzo matto perché stavo con questi sempre tutti mi ricordo che mio figlio piccolo mi ha detto papà basta con questi libri li prendevo li spostavo li aprivo guarda questo cercavo eccetera e lì è diventata una specie di ossessione per fortuna poi ho trovato il libro da scrivere e mi sono sfogato lì Mario Luigi dice una cosa che diciamo mi ha colpito come giornalista cioè dice che i giornalisti in genere usano i libri come testi di consultazione diciamo li usano un po' cotto e mangiato li saccheggiano hanno un rapporto diciamo molto rapido e anche legato all'utilità del momento ecco questo questo fatto lo dice perché qui si fa l'operazione opposta cioè il libro come terapia di benessere volevo chiederti se anche tu consideri questo un percorso cioè davvero è vero che noi giornalisti li usiamo come testi diciamo base servono per lavoro ma questo aspetto di poterli usare invece per recuperare il tempo per recuperare le emozioni questa è una cosa che forse stiamo perdendo anche perché se li leggiamo sul tablet probabilmente non danno la stessa no? ecco qui vorrei che tu dicessi qualcosa anche a favore del tablet eventualmente no io non riesco a leggere i libri sul tablet perché io ho una memoria geografica ah questo questo applauso è interessante cioè nel senso che io mi devo ricordare io mi ricordo una frase perché sta scritta in basso a sinistra o era messa lì per cui il tablet che ti dice hai letto il 18% per me è cioè io ho bisogno della pagina cioè capito mi ricordo le cose così spazialmente questo libro è un libro di libri perché è un libro che sostanzialmente fa due lavori una storia familiare e una storia italiana e però ogni capitolo e passaggio è attraverso un libro della biblioteca un libro che serve o ad accendere un ricordo o dove non ci sono i suoi ricordi a scoprire qualcosa a scoprire le amicizie quella tra suo nonno e Ungaretti un'amicizia clamorosa con suo nonno che si permetteva di correggere le poesie a Ungaretti e gli questo non va bene rifare pensate un po' con una cosa irripetibile a un certo punto suo nonno vuole mettere sulla rivista di poesie montale montale e Ungaretti gli dice assolutamente no sono contrario posso sono autorizzato e gli dice montale è una merda e lui trova che Ungaretti ha scritto trova le carte con Ungaretti che scrive questo al nonno e il nonno dice pazienza so già come la pensi lo pubblico lo stesso e pubblica montale capite che storia e quindi è un viaggio nella storia italiana è un viaggio alla fine in cui tu sostanzialmente secondo me ti rinnamori dei libri io credo che tu non li avessi mai letti con questa passione nella tua vita i libri dovete sapere che per circa un anno è andato avanti a non so quante persone poveri figli li piango ma a me che comunque abito a 600 km da lui ad altra gente a mandare dei messaggi tipo anche in giorni fa il direttore dell'ANSA quindi in giorni in cui non so crisi di governo succede questo e quell'altro ti mandava dei messaggi guarda ho trovato una cosa di Ungaretti una cosa di Valerì ho trovato una prima edizione di 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 Gadda una cosa bellissima e tu dicevi ma come te sta cadendo il governo te preoccupi della prima edizione di Gadda si tra l'altro io dicevo una cosa tremenda di cui mi vergogno oggi perché per tanti allora io ho letto tanto da ragazzo e ho cominciato a leggere grazie a mia nonna che era la moglie di Raffaele che mi leggeva i libri e quindi da ragazzo ho letto poi a casa mia c'erano libri poi i miei figli hanno letto però poi quando ho cominciato a fare il giornalista e l'ho cominciato a fare in ruoli diciamo così di dirigenziali e vai in televisione vai alla radio ti devi devi essere informato purtroppo per fortuna su tutto e quindi per approfondire leggi i rampini i saggi per forza devi leggere le cose dell'attualità per capire il mondo che stai vivendo per capire le notizie che devi pubblicare il tuo lavoro non ti concede del tempo libero almeno non te ne concede abbastanza quindi io dicevo pure no basta i romanzi non li voglio più leggere e questa cosa la dicevo in famiglia provocando critiche e diciamo no non faccio in tempo non ce la faccio soprattutto la letteratura contemporanea non la voglio leggere e c'era una specie di manifesto mio che era no ok quella parte l'hai finita adesso devi fare il tuo lavoro e quindi leggi i libri che ti servono per il tuo lavoro questa roba qui mi ha completamente capovolto quella realtà e mi sono immerso in questa lettura dalla quale non sono ancora riemerso spero di non riemerso non voglio guarire infatti non so come farai adesso che stai finendo diciamo la catalogazione ho trovato il tempo hai trovato il tempo però una cosa dei segnali di questa malattia c'erano perché se ho capito bene tu per esempio certi libri li hai tenuti sempre vicini come se potessero parlarsi per esempio i cinque libri che tuo padre ma raccontala tu ti ha consigliato tu li hai non solo li hai letti ma poi te li sei messi uno vicino all'altro e anche suppongo nei traslochi o nelle diverse disposizioni di casa li hai sempre comunque fatti colloquiare quindi qualche cosa c'era nel DNA c'era e mio padre che era una persona che aveva letto tanto mi lasciò questo io l'ho scoperto questa è un'altra delle coincidenze delle tantissime incredibili coincidenze che mi sono capitate da quando ho cominciato ad aprire quegli scatoloni durante la scrittura del libro è morta anche mia madre e mia madre che era separata da mio padre da tantissimi anni anche lei aveva parecchi libri non quanti mio padre ma ne aveva parecchi e a casa di mia madre inaspettatamente ho trovato dei libri di nonno quindi le due biblioteche si sono incrociate in quei giorni così tristi e ho scoperto e con mio fratello abbiamo scoperto che mia madre aveva sostanzialmente conservato tutta la sua vita cartacea quindi dalle analisi del sangue di quando io ero nato alle ricevute della clinica dove era nato mio frate mia madre aveva tenuto tutto in scatoloni e tra questi scatoloni aprendoli e ricominciando un'altra storia di scatoloni ho trovato un mio scatolone di quando io me ne ero andato di casa e mia madre aveva conservato tutte le fotografie della Roma dei manifesti le cartoline le prime lettere delle fidanzate delle cose che io proprio avevo completamente rimosso e dentro questa scatola trovo una lettera di mio padre che avevo completamente cancellato una lettera di mio padre nella quale mio padre mi consigliava la lettura di cinque libri bellissima una lettera bellissima che è alla mostra perché è una sorta di piccola recensione nella quale lui mi spiegava perché avrei dovuto leggere quei libri qual era il significato di quei libri per lui e per questo io li avrei dovuti leggere assolutamente avevo cancellato questa lettera mio padre mi ricordavo dei libri mi aveva lasciato un'estate che io ero rimasto a Roma proprio perché rimandato quindi a fare ripetizioni quindi fratello ha assolutamente ragione sulla tua scarsa ha ragione ma era matematica e non italiano questo ci tengo a precisarlo e mio padre mi aveva lasciato questo appunto di questi cinque libri che io ho riletto mi sono veramente emozionato perché è stato come sentire mio padre che mi parlasse di nuovo dopo tanti anni tra l'altro bellissima una lettera per quello che diceva del Gattopardo di Tobino del Gran Molnè insomma di questi libri che lui mi aveva consigliato di leggere mi diceva guarda il Gattopardo lo devi leggere perché ti fa spiegare come mai la Sicilia non cambia mai Metello ti racconta la lotta degli operai la follia di Tobino insomma era molto bella da un punto di vista di recensione per me e torno a casa e prendo questa lettera e vado a cercare questi libri che io ricordavo di avere letto ricordavo anche di avere amato in quella estate mi erano piaciuti tutti forse quello di Tobino un po' di meno perché era un po' angoscioso sulla follia e li trovo tutti vicini e mi sono reso conto che nei passaggi nei vari traslochi della mia vita forse scatolandoli erano rimasti sempre insieme quindi io a distanza di 40 anni anzi 45 e li ho ritrovati insieme senti questa è la storia di famiglia dei tuoi libri la particolarità no Mario di questo libro è che però è anche un pezzo di storia del paese forse la parte meno più difficile per te è il rapporto che tuo nonno ha avuto essendo diciamo cresciuta la sua esperienza anche professionale lavorava al ministero della guerra con incarichi dirigenziali eccetera il rapporto con il fascismo e su questo tu ti sei interrogato anche sì io sapevo che lui era fascista che il fratello era fascista e che erano stati anche degli esponenti del fascismo abbastanza importanti mio nonno era stato sottosegretario dell'ultimo mio zio scusate Luigi è stato sottosegretario dell'ultimo governo Mussolini e mio nonno era stato all'ufficio propaganda della guerra nella seconda guerra mondiale quindi questo lo sapevo in famiglia mi era stato sempre raccontato chiaramente nel conoscere l'intelligenza la raffinatezza dei pensieri di mio nonno più cresceva in me l'ammirazione per questa persona che non avevo mai avuto modo di conoscere da un punto di vista intellettuale e neanche fisicamente perché è morto prima che io nascessi e mi sono cominciato a domandare ma com'è possibile che sia stato così convintamente fascista che cosa faceva che cosa diceva che cosa pensava che cosa ha pensato il giorno in cui sono state varate le leggi razziali in me c'era anche un po' di rabbia in questo e anche un po' di preoccupazione perché ho capito che l'ideologia l'avevo capito anche prima ma lì me lo sentivo dentro me lo toccavo con mano ti può offuscare talmente tanto la testa che condividi o quantomeno non fai nulla per fermare quello che purtroppo è successo nel paese e questo è stato un cruccio ho cercato di capire se ci fossero c'erano tante cose sul fascismo libri fotografie se ci fosse una spiegazione non l'ho trovata direttamente ma ho trovato sempre in uno scatolone due quaderni del fratello che si chiamava Luigi come me sono sempre gli stessi nomi che si tramandano non sapevo che fosse suo pensavo che fosse il mio nonno poi leggendolo un diario questo mio zio aderì alla Repubblica sociale andò a Zogno era un un esponente del Ministero del Lavoro e quindi faceva il suo lavoro a Zogno e questo è il diario dal 25 dal 24 aprile del 45 al 46 la fuga il crollo della Repubblica di Salò e lì ci sono delle bellissime pagine lui viene arrestato dai partigiani che lo riconoscono sta per essere condannato e fucilato ma altri partigiani intervengono e gli salvano la vita perché lui aveva salvato la loro vita dalla fucilazione dai nazista lo portano lo nascondono in una casa lo fanno scappare poi viene processato e assolto dal CNN CLN locale proprio perché aveva avuto una posizione molto diversa e lui poi scrive 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 tutte queste storie e a un certo punto una mattina dice ma qui è crollato tutto e fa un esame di coscienza e dice ma io che cosa ho sbagliato in fondo io ero socialista volevo che il popolo progredisse questo era quello che io pensavo certo non mi immaginavo di ritrovarmi in mezzo ai nazisti in mezzo a questi metodi barbari però non devo rinnegare nulla perché io ci ho creduto e ci ha creduto fino alla fine però appunto in un modo in un modo diciamo diverso questo un pochino mi ha rassicurato anche se purtroppo poi alla fine è quello che è stato e non si può cancellare Mario ho visto che stavi sfogliando il libro ti sei trovato un'altra cosa no no che volevo questa intuizione intuizione così che secondo me tu ti sei riconciliato con i libri dopo la morte di tuo padre perché in un certo senso tuo padre era stato talmente immerso nei libri nella parola scritta e tutto che tu avevi un po' di rifiuto cioè gli stava girava alla larga per farvi capire com'era il padre con cui ha fatto solo una settimana di vacanza in tutta la vita quando era bambino il padre un giorno gli dice facciamo una domenica insieme bellissima e lui è bambino e lo porta al congresso della democrazia cristiana sai che che allegria ero con lui in tribuna stampa al palazzo dello sport all'Eur dove elessero Zaccagnini segretario e però lì scopre Giampaolo Panza che guardava col binocolo eccetera eccetera e gli fa fare tutto il congresso della democrazia cristiana questa era la domenica col nonno col padre all'uscita dal pala Eur il padre gli chiede ma ti sei annoiato e lui rimane in silenzio che e allora il padre gli dice beh ti sei meritato un bel regalo lui pensa beh mi vuole ricompensare per avermi fatto trascorrere un intero pomeriggio ad ascoltare Demita Forlani Ecco Siga e allora spera che lo porti al vicino Luna Park dell'Eur dove era andato una volta insieme al fratello e invece tirano dritto e vanno verso il centro allora lui pensa forse mi porta al cinema a vedere un film che era appena uscito di Bud Spencer e Terence Hill che a lui piacevano molti il padre tira dritto e lo porta a una bancarella di libri usati dove acquista la storia del partito comunista italiano di Paolo Spriano e con aria soddisfatta gliela consegna ecco un'opera che ti servirà se da grande vorrai fare il giornalista aveva 13 anni no infatti infatti secondo me è un miracolo Luigi che tu non abbia sviluppato una versione forte verso i libri altro che amore per i libri tra l'altro poi a proposito di storia del partito comunista tu racconti anche delle tue frequentazioni berlingueriane vero questo è un passaggio molto interessante molto divertente e mi sembra che Berlinguer ti aiutò no? adesso mi aiutò involontariamente ti aiutò involontariamente gli fece prendere un otto in storia con un'interrogazione sulla rivoluzione francese esatto esatto perché io ero in classe con il figlio più piccolo il secondo più piccolo Marco eravamo in classe insieme e giocavamo a calcio insieme studiamo insieme e giocavamo a pallone nel cortile nel campetto che c'era sotto casa loro tra l'altro una volta Berlinguer lo racconto nel libro venne e ci chiese di giocare con noi noi eravamo a muto litico c'era la scorta preoccupatissima e si mise a giocare facemmo una partita a calcetto con lui e dopo questa partita salimmo a casa il padre si mise in cucina a mangiare noi mangiamo e poi ci siamo messi a studiare avevamo il giorno dopo un'interrogazione di storia e quindi il padre a un certo punto aveva ancora un panino con lo stracchino che si era fatto da solo in cucina passa e dice che cosa studiate e io mal me ne incolse gli dico come dire che palle dobbiamo studiare la rivoluzione francese lui mi guarda con lo sguardo magnetico di Benguet come che palle ma la rivoluzione francese è una roba importantissima prende il panino lo appoggia si siede e comincia a raccontarci la rivoluzione francese noi a muto liti io in particolare anche rosso in volto perché ho capito di aver fatto una gaffe e ci ha raccontato tutta la rivoluzione francese in 40 minuti io rimasi a boccaferta dalla sua capacità dalla conoscenza mi sembrava incredibile che sapesse così bene che ce la spiegasse così bene per cui il giorno dopo casualmente vengo interrogato e gli ripeto tutto quello che mi ha detto Berlinguer e presi un clamoroso 8 e poi chiamai il mio padre e gli ho preso 8 per merito di Berlinguer poi ci sono anche delle chicche futuriste nel tuo libro tra i tanti le ricette sono bellissime tuo nonno aveva anche un rapporto personalizzato quindi con uno scambio non si sa in che termini si questo io non l'ho ben capito Marinetti però sicuramente gli deve essere piaciuto moltissimo il futurismo perché ci sono ho trovato tutti i libri tutti i manifesti le riviste quasi tutti veramente tantissimi bellissimi tra l'altro che io non avevo letto benissimo a scuola perché a scuola il futurismo soprattutto alla mia età si considerava una roba un po' fascista di destra anche i professori non lo amavano tantissimo almeno ricordo i miei lo snobbavano un po' e quindi li ho ritrovati e li ho trovati ho trovato una serie di libri sul futurismo tutti rilegati nello stesso modo tutti i libri di Marinetti e in uno di questi ho trovato un disegno fatto da Marinetti dedicato a mio nonno a Raffaele con simpatia di futurista che ho portato qui nella mostra e a me piace moltissimo la cucina futurista perché le ricette sono fantastiche intanto c'era questa guerra futurista alla pasta asciutta che i futuristi vedevano veramente come una cosa disdicevole disdicevole e poi c'era proprio un'ideologia stretta dice i futuristi accusavano i rigatoni di provocare fiacchezza pessimismo inattività nostalgica e neutralismo e quindi c'è il manifesto culinario di Marinetti nell'autunno del 30 che viene steso in una in un ristorante milanese la penna d'oca e con un menù proposto dai commensali che era oca grassa gelato nella luna brodo di rose e sole favorito del mediterraneo zig zag agnello arrosto in salsa di leone e in salatina all'alba beh insomma bellissimi ma tu non ti sei mai perso cioè tutti questi libri con sollecitazioni continue dalla grande guerra alla cucina futurista cioè il filo non l'hai mai perso beh sì all'inizio sì poi li ho un po' ricomposti ho fatto delle isole che poi sono un po' le isole della mostra e quindi in casa avevamo dei mucchi da qui la Sardegna qui il futurismo qui la prima guerra mondiale qui la seconda guerra mondiale il dopoguerra e quindi sì li ho messi un po' così anche per poi cercare un ordine per il futuro e quindi poi quando ho cominciato a pensare al libro a scrivere li ho ripresi dall'inizio ho seguito un filo cronologico ecco no parliamo della mostra immagino forse che chi è qui abbia potuto vedere ma c'è una mostra su cosso Matteotti proprio dei libri di cui abbiamo parlato e di cui ha scritto Luigi Contu e a questo provolto forse io direi che sarebbe anche carino mostrare qualche cosa di tutte le citazioni che abbiamo fatto che dici? sì sì assolutamente poi c'è questo bellissimo schermo forse qualcosa la possiamo vedere proprio dalla mostra così poi ci spieghi anche che cosa vediamo se la regia ci fa vedere le slide andiamo come vi ho detto la mostra ha un percorso a isole questa è la prima isola ed è la storia della Sardegna sono i libri della Sardegna l'abbiamo intitolata Saperda Ballerina che è la pietra ballerina che è una leggenda bellissima che ho trovato in un racconto in più racconti della Sardegna che narra di una grande pietra rotonda che è davanti a Nuoro che ancora oggi è davanti a Nuoro e che la leggenda voleva che avesse imprigionato dentro di sé una bambina una bambina che voleva sempre ballare i genitori si arrabbiavano tanto non volevano che perdesse il tempo a ballare per castigo fu imprigionata nella pietra ma lei voleva ballare così tanto che faceva muovere la pietra anche da dentro la pietra la pietra si muoveva e la pietra si muoveva davvero nella storia della Sardegna di La Marmora che è una roba di otto volumi che ha scritto il generale La Marmora lui racconta di essere andato a Nuoro e effettivamente questa pietra soltanto con un tocco si muove si tocca la pietra e la pietra ondeggia per un bel po' di tempo poi ha smesso di ballare ha smesso di ondeggiare questo è successo dopo gli anni 30 e lo riportano gli Arinari in un altro libro che racconto nella mostra e che dicono che a un certo punto evidentemente non so la bambina si è stancata o comunque questo fenomeno fisico non è più andato avanti poi c'è quella Cantu Primo che vedete è una divina commedia in sardo ne abbiamo parlato prima e poi ci sono dei libri della Deledda andiamo alla prossima così non prendiamo troppo tempo abbiamo già parlato del futurismo ecco quella che vedete al centro sotto la conquista delle stelle che è un libro magnifico che io ho letto grazie a mio nonno che vi consiglio davvero perché è un libro davvero pazzesco quello è il disegno che Marinetti ha dedicato a mio nonno e Zhang Tumtum è il libro più famoso lo vedete sicuramente sentito a scuola di Marinetti andiamo all'isola successiva questa è la prima guerra mondiale a sinistra vedete il diario di guerra che scrisse mio nonno perché chiaramente ovunque andava scriveva per qualsiasi cosa faceva pubblicava qualche cosa scrisse la storia del suo reggimento lui partecipò alla guerra nell'Isonzo e quello che vedete in alto a destra è lui al fronte sul monte Calvario e quello invece è il ruolino lui era comandante di una compagnia dove erano annotati tutti i nomi dei soldati della sua compagnia forse qui non si vede ma ci sono tutte le X dei caduti dei morti lui ogni sera faceva l'appello e gli mancavano dei soldati e racconta questa cosa nel diario e questi sono tutti i suoi soldati che hanno perso la vita poi abbiamo la parte successiva la slide successiva invece la parte scientifica dove c'è appunto la prima edizione di Einstein in italiano quello libro al centro è uno dei libri su cui mio nonno ha studiato Einstein per poi tradurlo e poi ci sono altri libri di astronomia molto belli tra cui quello lì a sinistra un libro francese in cui sono disegnati tutti gli emisferi il colore delle stelle insomma una roba molto bella molto romantica andiamo avanti con la prossima slide questa è l'isola dedicata al rapporto tra mio nonno Valerì e Ungaretti l'abbiamo chiamata sentimento nel tempo sentimento del tempo è una delle raccolte più importanti delle poesie di Ungaretti che mio nonno pubblicò nel 1930 quelle sono le bozze vedete a sinistra sono gli appunti che Ungaretti scriveva a mio nonno mi raccomando pubblica questo qua metti il titolo a sinistra sposta a destra le bozze di stampa che si utilizzavano quella frase scusami Luigi quanto fu bella la nostra amicizia questa frase quanto fu bella la nostra amicizia è una frase che scrive Ungaretti quando mio nonno è morto è stato pubblicato un libro di ricordi di nonno con tutte le persone che lo avevano conosciuto ognuno scrisse un ricordo e Valerì scrisse una cosa molto bella e Ungaretti raccontò il loro rapporto e finisce il suo ricordo con questa frase quanto fu bella la nostra amicizia quella che vedete al centro è la poesia luna di Ungaretti scritta da Ungaretti a mano su un foglio di carta velina che ho trovato in questi cassettoni e lì invece a destra c'è una poesia di Sabba anche quella che doveva essere pubblicata da nonno la prossima slide è la cosa più bella che è successa in questa storia dunque mentre io ero con lo vedete alle mie spalle ma tanto io la conosco bene mentre io ero con mia figlia nello studio di papà a cercare di mettere a posto troviamo questo libretto un piccolo libretto di due pagine l'inno vedete lì a sinistra vediamo questo libretto così come se fosse un libro qualsiasi in mezzo agli altri lo prendiamo lo apriamo e leggiamo Giuseppe Ungaretti l'inno giriamo la pagina e troviamo questa poesia a destra che vedete che inizia con o pianto fondo vabbè mia poesia di Ungaretti l'inno io e mia figlia diciamo ah bello guardiamo la leggiamo e dico ma io non me la ricordo lei pure dice ma neanche io adesso non è che uno si ricorda tutte le poesie di Ungaretti forse adesso si meglio non chiedere a nessuno esatto dico vabbè insomma dice vabbè facciamo una roba digitiamo googoliamo dice mia figlia vediamo che così è digitiamo la prima frase non esce niente digitiamo la seconda strofa non esce niente di nuovo dico vabbè guarda era tardi lasciamo perdere andiamo a casa tanto a casa abbiamo i meridiani che tra l'altro mi aveva regalato mio padre con l'opera completa di Ungaretti lo troviamo là la mattina dopo mi sveglio e dico andiamo a cercare l'inno vado a cercare l'inno non c'è traccia di questo inno ci sono gli inni che sono una parte della produzione di Ungaretti che sono varie poesie di Ungaretti ma nessuna che si chiama inno è possibile ritorniamo nello studio dove avevamo lasciato il libretto andiamo là lo riprendiamo lo riguardiamo meglio dietro al libretto troviamo la scritta stampato in 50 copie dagli amici del poeta vabbè una poesia di Ungaretti stampata in 50 copie dagli amici del poeta sarà non sarà vediamo che ha delle correzioni a un certo punto mia figlia dice guarda proviamo a digitarla tutta con le correzioni la digita tutta esce fuori in effetti l'angelo del popolo e vediamo alcune di queste strofe che sono finite in una poesia scritta da Ungaretti anche molto bella che insomma veramente una bella poesia che Ungaretti scrisse per protestare con gli americani che avevano bombardato le tombe di Roma le tombe del verano era una poesia di rabbia diciamo ma allora come è possibile che un pezzo sta lì non capiamo bene che cosa sia questa cosa comincio a fare delle ricerche non le trovo non la si trova cerco nei libri comincio a chiamare dei professori e nessuno mi dice no ma questa noi non la conosciamo non lo sappiamo quindi capisco che è qualche cosa contemporaneamente nello studio di mio padre c'erano dei quadri una serie di quadri che dovevamo spostare e mettere a posto tra questi quadri in un armadio chiuso dentro a una bustona di cartone trovo questo quadretto a destra questo quadretto a destra che io non avevo mai visto lo guardo lo guardiamo con mia figlia e mia figlia fa ma questo è Ungaretti che è quella a destra con la cravatta ma guarda che questo è Ungaretti e poi dice questo qui è nonno ma è possibile andiamo a prendere le fotografie di mio nonno effettivamente è lui di profilo giriamo il quadretto e dietro al quadretto c'è uno di quei permessi che si fanno per entrare nei ministeri che si facevano non so se si fanno ancora con scritto 20 luglio 1943 il signor Ungaretti chiede di parlare con il tenente colonnello Contu quindi ricolleghiamo il 20 luglio del 43 che è la stessa data del libretto Ungaretti è andato a trovare nonno è andato a trovare nonno e evidentemente gli hanno dato questa poesia che avevano stampato io mi sono immaginato a un certo punto viene Ungaretti diamogli la poesia eccola qua guardiamo meglio il quadretto e scopriamo questa cosa incredibile che sotto in basso non sappiamo di chi sia il quadro c'è scritto Ungaretti ha corretto l'inno lì ci scatta la scintilla la poesia è corretta quindi e Ungaretti ha in mano il libretto e quindi noi ci siamo fatti questo film io non so se sia vero o se sia finto ma ci sono troppe coincidenze io penso che sia andata così Ungaretti ha mandato questa poesia i suoi amici gliel'hanno stampata gliel'hanno regalata si sono tenuti delle copie e lui è arrivato in ufficio e ha detto no ma qui no non va bene questa cambiamo così l'ha cambiata e qualcuno lì ha detto aspetta facciamo una foto facciamo un disegno perché all'epoca non si poteva fare e lì ha ritratti in questa scena che io trovo davvero particolare bellissima spero di riuscire a capire che ha fatto questo disegno e questa è questa poesia che nessuno aveva mai letto fino a quel momento sicuramente mio nonno è stata smembrata che è stata smembrata ma in questa stesura nessuno l'aveva mai letta quindi abbiamo trovato questa piccola cosa coop e anche una ricerca veramente da detective quindi lei veramente di tutto è successo vabbè io penso che Mario dobbiamo solo invitare chi ci ha seguito a vedere questa mostra e a comprare il libro e a leggerlo ovviamente secondo me potete scegliere o questo libro o la storia intera del partito comunista di Spriano che lui è disponibile a cedervi adesso magari se tornano a casa e coccolano un po' i libri i libri si sentiranno assolutamente meno soli no? che dici? io penso di sì tra l'altro devo dire che alla fine di tutto questo essendomi io innamorato così tanto della figura di mio nonno ho cercato di fare ulteriori ricerche e ho trovato in una libreria antiquaria un catalogo d'arte nel quale c'era una prefazione di mio nonno una prefazione nella quale lui racconta la bellezza dei cataloghi dei libri e leggendola più la leggevo e più mi sono reso conto che era una cosa molto significativa perché sostanzialmente da questa prefazione io ho capito che la frase i libri sono si sentono soli i libri vivono era di mio nonno la scrive mio nonno e quindi mio padre ce l'ha raccontata prendendola dal nonno a questo punto io ci ho fatto il titolo del libro la lascio ai miei figli e abbiamo chiuso il cerchio e adesso il problema è dei figli grazie grazie a tutti grazie a voi arrivederci a passaggi festival i libri non si sentono soli assolutamente grazie grazie a Luigi Contu e grazie anche a Mario Calabresi e Alessandra Longo per questa appassionante conversazione a Contu invece chiedo la cortesia c'è sul tavolino il libro con la penna di fare una firma e una dedica a passaggi festival perché poi questa coppia andrà ad arricchire la biblioteca di passaggi festival per il pubblico invece il firma coppia come sempre è sotto il portico del teatro e ricordo appunto che la mostra di cui si è parlato in questo momento è a palazzo Alex Sant'Arcangelo in Corso Matteotti tantissime curiosità quindi leggere il libro prima poi andare a vedere la mostra credo che sia il connubio migliore per gustarsi tutte queste curiosità e tutte queste scoperte appunto che ha avuto la fortuna di fare Contu grazie alla biblioteca del padre e del nonno e poi questa quinta serata che ha avuto tantissimo pubblico ci avvicina poi è fatto allora le chiedo anche di leggerla così che il pubblico sia coinvolto in questo in questo momento a passaggi festival una storia di libri per una grande biblioteca dove questo racconto non sarà mai solo perfetto perfetto e fra l'altro per lei c'è anche quel quel pacchettino è un omaggio della profumeria Taussi che ha creato un profumo proprio dedicato a Fano Fano un fortuna e quindi si porta il ricordo di questa serata e della città di Fano grazie mille buonasera a tutti buonanotte grazie mille